I te ne apri a popa Quelle immagini che resta negli latini Peppello Ma secondo me cosa fa il mio video è veramente in testa che è fantastico Io ho staccato giù lì, però ho staccato un pelo più giù un pelo più giù Comunque siamo andati con le varie C'è una cosa molto particolare C'è una cosa molto particolare Come succede?